Bentornati, un nuovo inizio per Samuel, che dopo aver intrapreso la carriera di calciatore nell'MSP, ha deciso finalmente di passare a quella di allenatore alla guida di una piccola realtà bolognese. Riuscirà nell'intento di formare piccoli nuovi talenti? Ma soprattutto, riuscirà ad essere all'altezza di ricoprire questo ruolo così importante? Scopriamolo insieme! Ok ragazzi, ci siamo. Oggi, primissima giornata di campionato. Molto, molto importante. Ci siamo allenati in queste settimane, abbiamo fatto la primissima amichevole che è andato molto, molto bene sull'aspetto di gioco e di qualità e quello che poi avete fatto vedere in campo. Quindi, noi come mister siamo veramente soddisfatti di quello che ci avete fatto vedere perché siete veramente dei bravi ragazzi, ma soprattutto avete tantissime, tantissime qualità. Da oggi parte il nostro percorso, ok? Per tutti quanti. Vogliamo dei ragazzi che si divertono innanzitutto quando entrano in campo e che vengono qua per divertirsi. Siamo una squadra. Ricordatevelo sempre. Non esistono i singoli. Ci sono quattro tempi, ok? Quindi se si vince un tempo è un punto. Il nostro obiettivo è cercare di vincere più tempi possibili. Mi raccomando, entriamo in campo decisi, cattivi, duri. Se prendiamo gol dobbiamo farne subito altre due. Subito altre due? È chiaro, Billone? Capito? Facciamo gol, dobbiamo fare subito altre due. Bene, io ho detto il mio. Adesso il mister dirà la formazione. Mi raccomando, concentrati tutti, anche quelli che partono giù, ok? Il campo è un po' più piccolo rispetto a quello dell'amichevole. Questo cosa vuol dire? Magari in alcune situazioni siamo un po' più agevolati. I primi 9 sono Marci in porta. Partiamo in difesa con Manuel. A sinistra Ale. All'altro lato c'è Sofi, ok? A fare i due centrocampisti centrali, fanno oggi un bel lavoro dovete fare. I due centrocampisti centrali sono Amin e Thiago, ok? Proviamo a partire un po' più dietro. Con Amin ovviamente vi alternati, quindi a seconda della situazione può essere che lui sia andato, tu copri. Perché tu secondo me hai le caratteristiche anche per fare quel ruolo lì. Davanti giochiamo inizialmente con Christian da un lato e dall'altro lato Giulio. Quindi Giulio oggi farai l'esterno. Davanti parte Diego, ok? Gli altri non vi preoccupate, abbiamo quattro tempi e gireremo tutti. Quindi senza problemi. Ok ragazzi, questa è la formazione. Adesso mi raccomando, adesso inizia la nostra partita. Quindi testa, concentrati, usciamo da qua, tutti assieme, facciamo vedere chi siamo la squadra. Ok? Chi siamo noi? Chi siamo noi? Chi siamo noi? E andiamo! Ragazzi, mi raccomando, giochiamo di squadra, facciamo girare il pallone. Veloci di testa, ok? Veloci di testa, eh? Oggi, domani, ragazzi! Buona! Sì, sì, puntalo! Puntalo, puntalo! Sì! Buona lei! Bravo Diego, bravo Diego! Bravo Diego! Ora, 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 sì! Ancora! Buona! Sì Diego! Sì Giulio! In mezzo, in mezzo! Fatti vedere, fatti vedere! Sì! Bravo! Bravi, 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 ancora! Buona Min, in mezzo! Sì! Buona! Vai Tiago! Vai che al tiro! Bravo Tiago! Bene Sofi, bene Sofi, bene Sofi! Bravo! Solo! Di là, di là, Giulio! Sì, solo, punta, punta! Bravo Kri! Ehi! Oh! Cerchiamo di fermarci, dai! Ci facciamo male, oh! Min, 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 min! Chiamala! Sulla ribattuta! Sì! Va bene, ancora! Sì, 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 ancora! Forte! Bravo Tiago! Sì, va bene! Va bene! Mettite a posto me! Grande Marci! Buona! Bravo! Bravo Diego! Sì, 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 sì! Sì! Due contro uno, due contro uno! Due contro uno! Sì! Puttalo! Ancora! Sì! Vieni Gris! Vieni Gris! Andiamo! Ora! 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 Forte! Forte! Bravo Giulio! Bravo Min! Sì! Bravo! Bravi! Va bene! Oh! Questo è! Atteggiamento, dai! No, no, no! Bravo! Bravi! Bravi! Ce l'hai! Arriva, arriva Kri! Ehi! Ehi! Bravo! E' tranquillo, Kri, vai tranquillo, Kri, è solo un calcio! E' solo un calcio! Lo so che fa male, sei un uomo! Lo so che fa male! Dai! 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 Sì! Buono! Sì! Trova il Yamaru! Bravo! Bravo Diego! Bravo Diego! Sì, Sofì! Sì, Sofì! Sì, Sofì! Dai, 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 dai! Ora! Ora! Va bene, va bene, va bene, va bene! Ora! Sì! Buona! Solo, solo, solo! Sì, dire! Sì, dire! Dai, dai, dai! Grande Kri! Sì! Buona! Bravi, eh! Bravi, bravi! Bene l'atteggiamento! Bene, molto bene l'atteggiamento! Siamo partiti più forti di loro! A mille siamo partiti! A mille! E questo deve essere ogni partita! Ogni singola gara! Mi raccomando! Veloci! Palla al piede, veloci! Non c'è tempo ragazzi! Non c'è tempo! Sì, ok! Dai, forza, andate! Dai, eh! Dai, eh! Forza, dai! Dai, dai! Dai, 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 dai! Bravi! Giocala! Solo! Di là! Dai, Paolo! Bravo! Bravo! E tu, bravo! Va bene, ci ho preso tu! Meglio fra, meglio fra! Vieni, Giuseppe! Ora, ora, ora! Ora, forte! Calma! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene! Oh! Va bene! Calma, calma! Bravo! Avanza! Buona! Lei? Sì! Vai, Paolino! Sì, Paolino! Bravo! Ancora! Sì, bravo! Bravo, bravo, Paolo! Certo! Bravo! Io ti senti! Sì, bravi! Sì, bravi! Sì, bravi! Sì, bravi! Sì, bravi! Diego! Sì, bravi! Sì, bravi! Diego! Giocala! Dai, Diego! Metti pressione! Metti pressione! Metti pressione! Metti pressione! Dai, dai! Buona! Ancora! Solo! Solo, solo, Marci! Sì, sì! 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 Giulio, vai, vai Giulio! Sì, vai! Buona! Calma, calma Giulio! Vai, vai, Diego! Puta! Puta, Diego! Bravo! Bravo! No! Come hai fatto tu? Diego! Diego! Bravissimo, bravissimo! Vi avrete subito subito? Cosa? Pepe esterno e Giulio punta. Voglio vedere come si comporta. Sì, voglio vedere come si comporta. Ora, 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 ora! Ora! Bravo! Bravo, Pepe! È fallo, no, no, no! Fallo, dai, fallo, dai, fallo. È fallo, è fallo! Guardi tu! C'è visto, è fallo! Se è fallo, se è fallo, dai, non lo so! Forte! Non va via, eh! Non va via, non va via! Dai che non ti va via! Bravo! Gioca! Sì! Sì! Uno, due! Uno, due! Dai, meglio! Meglio! Ci siamo partiti un po' sotto tono, eh? Perché inizialmente andavano più decisi loro sui primi contrasti, eh? Quindi questo secondo tempo l'abbiamo recuperato alla fine, che abbiamo cercato di recuperare e fare meglio. Però, malino, dobbiamo entrare in campo con lo stesso atteggiamento del primo tempo. Adesso abbiamo l'ultimo tempo, ok? Da 20 minuti, non facciamo più quattro tempi, facciamo l'ultimo tempo da 20 minuti e finisce la partita. Abbiamo fatto una vittoria e un pareggio, quindi ci giochiamo tutto adesso, ok? Voglio vedere dei leoni in campo, eh! Oh! Guardatemi in faccia, dei leoni voglio vedere, eh! Me la voglio portare a casa questa vittoria! Dai! Va bene, gioca Tiago! Bravo, solo a Min! Solo a Min! Ce l'hai! Buona, solo! Punta! Sì, calma Kri! Dai Paolo, gioca, anche dietro! Anche dietro! Sì! Forte! Non fai gol! Dai! Ora! Ora! Dai che non devi passare! Sì, sì! Bravo, Min! Dai! Bravi, bravi! Solo, Min! Solo! Bravo, ancora! Ce l'hai! Anarchiti! Vai! Vai! Vai, Giulio, vai! Sì! Oh, Giulio! Sì! Bravi, raga! Sì! Buona! Buona! Putalo! Bravi, raga! Bravi, ancora! Sì! Sì! Bravo, Giulio! Grazie! Bravi, raga! Sì, sì! T'vez, t'vez, t'vez! Sì! Dale, Tianquito! Sì! Sì! Ora, ora, ora! Hora! È paulino! Sì! 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 bravo min bravi c'è ancora bravo kree bravo grito solo 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 ce l'hai ce l'hai ce l'hai si diego giocala bravi bravi tutti forza buona bravo bravi bravi ragazzi bravi ragazzi certo mi chiamo come fatevi un applauso complimenti perché abbiamo giocato veramente bene veramente bene ok signori signori si è chiusa una grandissima partita è stata una grandissima partita vittoria direi netta per noi i ragazzi sono comportati veramente bene sono felice del risultato perché mister come neo mister comunque se abbiamo fatto bene siamo partiti subito bene carichi ho visto i ragazzi che sono portati veramente bene primo tempo vittoria nostro primo tempo pareggio nel secondo tempo terzo tempo e ultimo tempo alla fine abbiamo deciso di fare 20 minuti non più quattro tempi perché giustamente il tempo scasseggiava e c'era bisogno di lasciare il campo grandissima vittoria netta per noi che ragazzi sono stati veramente bravi e non hanno preso soprattutto gol facciamo entrare anche giustamente gli altri due mister allora mister come avete visto questa partita come sono portati i ragazzi i ragazzi sono comportati bene la prima partita quindi ci sono tante cose chiaramente da migliorare su cui lavorare però la cosa importante che non tutto hanno lavorato su quello che abbiamo provato in allenamento quindi abbiamo provato a giocare poi c'è stato l'agonismo c'è stato l'atteggiamento e dobbiamo lavorare tanto sul concetto di squadra quindi i singoli devono mettersi a disposizione della squadra non solo per magari fare un dribbling in più e fare gol che sicuramente fondamentale però anche proprio in un concetto di relazione col compagno che è molto importante però per il resto direi buona la prima direi che siamo andati molto bene io curo più l'aspetto dell'atteggiamento a livello di squadra mi sono piaciuti mi raccomando lasciate un grandissimo like se vi è piaciuto questo episodio e se vi sta piacendo soprattutto questa serie innovativa nuova che stiamo facendo per me è veramente una figata perché l'esperienza incredibile poter allenare i ragazzi e poter avere una squadra dove appunto posso allenare e mettermi anch'io alla prova detto questo ci vediamo prossimo video da enjoy è tutto